Ciao a tutti! Oggi prepariamo una conserva che è perfetta come aperitivo sui crostini, nella pasta e non può mai mancare sulla pizza. Oggi prepariamo insieme i carciofini sott'olio. Le dosse sono un po' indicative, ma con quelle che vi do oggi vengono tre bei vasetti. Innanzitutto puliamo i carciofi, tolgo le foglie più dure e pulisco bene il gambo. Grazie a tutti! Mi piace il gancho per pulire i carciofi, E' successo! o il pezzo al canno, non si友 this! e si questo è quello che succede dove per pulire i carciofi ma per rimediare mi basterà un limone e strofinare ora li putto tutti insieme in una pentola con aceto e vino bianco li lascio stare 5 minuti dalla ripresa del bollore poi li scono e li dispongo bene su un canovaccio grazie a tutti adesso devono riposare un po' di ore meglio se una notte intera passata la notte li dispongo nei vasetti e aggiungo l'olio di semi fino a ricoprirli la sterilizzazione dei vasetti è un passaggio molto importante io faccio così sul fondo di una pentola metto un canovaccio poi sistemo i barattoli, i coperchi e copro con acqua calda accendo il fuoco e dal momento del bollore conto 15 minuti poi li scono e li lascio raffreddare ciao ciao Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Il video finisce qui, spero che vi sia piaciuto. Se questo è stato lasciate un like, commentate e condividete. Mi raccomando fatemi sapere sui social o qui sotto nei commenti se vi farete questa ricetta. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video.